Rieccoci in diretta per il post-gara, siamo già in compagnia di mister Massimo Rastelli, il mister Laperino batte la nocerina, possiamo dire un passo in avanti, fa parte insomma di un processo di crescita rispetto alla Michele con il Barletta? Sì, sì, assolutamente, ho visto tante cose positive, c'è stato lo stesso atteggiamento comunque che abbiamo avuto a Barletta, una squadra comunque che era subito entrata in partita, piano piano abbiamo, secondo me, fraseggiato meglio, abbiamo trovato meglio gli spazi, all'inizio, magari anche il gran caldo, i ragazzi hanno fatto un po' fatica, però, ripeto, l'approccio è stato positivo, piano piano abbiamo preso in mano le retini del gioco, abbiamo creato tante ottime situazioni, potevamo verticalizzare e rifinire meglio, comunque concludere meglio in alcune circostanze, però, ripeto, quello che cerco poi di vedere al di là del risultato, che, ripeto, lascia il tempo che trova, ma è vedere la crescita, come hai detto tu, della squadra di partita in partita, sotto tutti i punti di vista e oggi c'è stato, il fatto comunque di giocare alle 5 e mezza con un gran caldo ci serviva anche per soffrire, per andare oltre un po' alla stanchezza, i ragazzi oggi sono stati veramente molto molto bravi. Ecco, mister, appunto quel piano piano, perché effettivamente i primi 20-25 minuti abbiamo trovato un po' di difficoltà a trovare le coordinate giuste, qualche spazio di troppo, abbiamo visto un po' qualche ruruccio del passato, sugli esterni, sulle ripartenze loro, però poi ci siamo sciolti e abbiamo visto proprio alcune giocate anche pregevoli. Tra queste io direi anche, si attornerebbe le prestazioni degli attaccanti, su tutti i patierno, si sono sbloccati, cioè tra virgolette sbloccate, hanno segnato e a questo punto, ecco, l'intesa tra i due, a che punto è da quello che possiamo vedere? Noi abbiamo iniziato cercando di andare subito a prendere altissimi e a volte siamo andati anche oltre, nel senso la foca, la voglia di andare a riconquistarla subito, quando comunque l'avevamo anche preparata per aspettarli anche un po' di più, per farli venire e poi conservarci un po' di spazio. E quindi inevitabilmente, soprattutto contro il 3-4-3, che è naturalmente un sistema di gioco che deve essere veramente perfetto, se no ti vanno a giocare tra le mezze linee, tra l'ampiezza del quarto e il trequartista, e quindi quando piano piano queste distanze le abbiamo colmate bene, non abbiamo assolutamente rischiato, abbiamo recuperato palla molto alta e siamo ripartiti. E col passare poi degli allenamenti, delle gare, anche l'intesa tra i giocatori, non solo per gli attaccanti, ma di tutta la squadra, naturalmente migliora, di allenamenti in allenamento, naturalmente andiamo a ripetere sempre di più certi meccanismi che poi i ragazzi in partita cercano di ritrovarsi, a volte ci riusciamo, a volte no, però è importante che cercano determinate triangolazioni, soprattutto con questo sistema di gioco che ti permette comunque di avere grande densità in mezzo al campo e poi naturalmente devi essere bravo anche quando poi vai un po' a cercare degli sbocchi esterni. 3.300 abbonamenti, la Sud che è oggi uscita allo scoperto, Presidente portaci in Serie B, c'è grande entusiasmo e tu sai che hai anche un grande ruolo di responsabilità, naturalmente tu e tutta la squadra. Come sempre d'altronde, quindi mi fa piacere, mi fa piacere che siano venuti tantissimi tifosi che hanno fatto capire fin da subito la spinta che ci possono dare in ogni gara, quanto per noi siano veramente quell'uomo in più che ci deve dare sempre quella spinta nei momenti di difficoltà. I ragazzi sanno, soprattutto i nuovi arrivati, stanno iniziando anche a capire cosa significa indossare la maglia dell'Avellino e per questo da ogni allenamento, da ogni partita sto cercando di far capire loro che per noi amichevoli non esistono e credo che la squadra, ripeto, tranne il primo tempo contro il Casal Boldino, credo che piano piano stia crescendo, siamo in preparazione quindi è anche normale, però il nostro pubblico è fondamentale, sappiamo il campionato che dobbiamo fare, quindi stiamo, credo, voi avete eseguito ogni minimo allenamento, credo che si stia facendo un buon lavoro, c'è ottima ammonia all'interno e all'esterno, quindi per noi, tra virgolette, diventa anche più facile, insomma, lavorare. Esatto, nonno la partita, abbiamo sentito, eravamo dietro le panchine più volte dire e chiedere ai suoi di essere meno leziosi, che cosa intende quando dice essere meno leziosi, forse più pratici o magari più lucidi, a tal proposito le chiedo anche di D'Angelo, perché forse è quello che in questo momento ha maggiori difficoltà a centro campo. No, nel senso che a volte ho visto solo un po' di superficialità, forse troppa convinzione in qualche passaggio semplice e abbiamo permesso poi all'avversario di rubare palla perché non è stata giocata con la dovuta cattiveria, in questo senso per me era, voglio che i miei ragazzi siano concreti sotto questo aspetto, cattivi anche se devo fare un passaggio di un metro, però ripeto, fa parte del periodo, della crescita, qualche pallone lo si può sbagliare, l'importante è come stanno facendo, cercare subito di rimediare, di andarla a riconquistare subito e questo credo che sia un aspetto che per noi, almeno per il calcio che intendo io, è fondamentale. Per quanto riguarda Sonni, ripeto, ha le sue caratteristiche, è un giocatore che naturalmente magari spende subito determinate energie, deve essere un po' più bravo a gestire determinate situazioni e credo che poi col passare del tempo anche lui migliorerà la tenuta fino ad arrivare al novantesimo in ottima condizione. Ecco, Ministro, abbiamo visto due volti nuovi qui a guardare la partita, al di là di Diago Cione, che c'erano Michele Rigione e Salvatore Pezzella, insomma se ci descrivi un po' queste operazioni, nel senso cosa potranno dare all'Avelino anche se non hanno bisogno di presentazioni, soprattutto Rigione per l'esperienza che ha. Sì, appunto, sia Cione che Rigione penso sia poco da dire, due grandissimi difensori di grandissima esperienza, di grandissima personalità e vanno a completare quello che era la nostra idea dall'inizio della stagione, di mettere esperienza, di mettere comunque personalità all'interno non solo dello spogliatoio, ma soprattutto non solo del campo, ma soprattutto dello spogliatoio. Pezzella invece è un giocatore che mi permette di poterlo utilizzare sia da play davanti alla difesa che da mezzala, un giocatore di grandissima qualità, è un giovane, quindi è importante avere giocatori comunque freschi che possano diventare anche per la società un valore. Ieri sera a Sturno Giorgio Perinetti ci ha detto abbiamo fatto tanto, però saremo vingili sul mercato fino alla fine, questa frase come la dobbiamo interpretare? Rastelli e noi dobbiamo aspettarci ancora qualcosa? E lo devi chiedere al direttore, io penso solo ed esclusivamente ad allenare, mi dovete credere, non ci credete perché pensate che io sia bugiardo, ma veramente ci sono state delle situazioni dove sono arrivati al campo e mi hanno detto mister oggi c'è una sorpresa per te e quindi qualsiasi cosa facciano io sono contento, non lo so, ci pensano loro.